Raccontaci un po' che cos'è l'associazione Spingi la vita ONLUS. L'associazione Spingi la vita ONLUS nasce sei anni fa da un gruppo di persone che si erano mobilitate per aiutare un caso specifico. Dopo due anni di attività con questo nominato che è riuscito a raggiungere degli obiettivi straordinari, e abbiamo deciso che non era giusto fermarsi ma continuare a fare per altri quello che abbiamo fatto in quei due anni. Facciamo attività con le scuole per far sì che i ragazzi, i giovani, capiscano che cos'è la diversità di una persona in varie sfaccettature, non solo la disabilità. Perché l'Inferno Run? La domanda è perché no. È nato tutto da un gruppo Whatsapp di amici che ha pubblicato e ha condiviso l'evento di ottobre e scrivendo è nato come battuta perché non poterlo fare liberamente. Da lì ci siamo mobilitati e tramite Daniele che ha contattato l'Inferno Run stiamo aprendo questo percorso per poterlo fare insieme. Magari oggi sono solo, domani saremo più di uno e poter fare attività sportive tutti insieme senza avere grossi problemi, adesso sia una cosa più bella.